Il Dottor Jung Il tuo trattamento sperimentale Mi parli della prima volta in cui è stata picchiata da suo padre? Mi piaceva E come sta la sua piccola paziente rossa? C'è stato un miglioramento straordinario La ragazza è vergine? Sicuramente Se mai vorrà prendere l'iniziativa, io abito in quel palazzo Perché tanti affannosi sforzi per soffocare i nostri più elementari istinti naturali? Mai reprimere nulla Voglio che tu mi punisca Gira la voce che lei abbia preso una delle sue pazienti come amante Pensavi che ti avrei lasciato andare senza combattere? Non pensi che dovremmo fermarci? Tu vuoi fermarti? Ne è ancora innamorata? Tornerai da noi adesso A volte devi fare qualcosa di imperdonabile Per poter continuare a vivere